Ciao a tutti amici di tecnologia su misura oggi ci ritroviamo per parlare di un argomento decisamente speciale tanto conosciuto e diffuso quanto incompreso nelle sue basi tecniche e teoriche cioè internet per cominciare che cos'è internet? non è nient'altro che una rete di calcolatori diversamente specializzati in grado di comunicare tra loro i principali dispositivi che costituiscono internet sono innanzitutto gli host che è un termine generico che viene utilizzato per descrivere gli estremi della rete in poche parole gli host sono i punti interessati come destinatari omittenti dell'informazione i server e i client sono entrambi host i router invece sono apparecchi dedicati alla propagazione e al corretto instradamento dell'informazione i server sono ideati per superare una grande quantità di richieste da parte dei client mentre i client non sono altro che i nostri computer, i nostri smartphone o tablet e in generale tutti i dispositivi che si collegano in rete per ottenere vari tipi di servizi da un server chat, download, mail, richiesta di pagine web eccetera 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 per permettere ai dispositivi appena citati di comunicare in rete è necessario stabilire sia dei collegamenti fisici sia una serie di protocolli specifici la stratificazione dei protocolli è la chiave per comprendere internet costituisce una scelta ben precisa di tipo ingegneristico e permette di sviluppare ogni aspetto della rete in modo indipendente e parallelo dobbiamo immaginare i livelli di internet come parte di una materia osca nel cuore della quale è inserito il primo livello ogni altro livello successivo, via via più esterno, costituisce strato per strato l'involucro della bambola così da determinare le proprietà di propagazione dei dati questo principio è detto incapsulamento dei dati ogni nodo della rete e poi la materia osca viene smontata e rimontata per determinare come il messaggio deve essere recapitato alla sua destinazione finale nel corso di questo episodio descriveremo sinteticamente i 5 livelli che caratterizzano internet il primo livello è il livello applicazione e si occupa di gestire i dati che client e server si scambiano per ottenere determinati tipi di servizi ad esempio i messaggi mail, le richieste delle pagine web oppure i trasferimenti FTP il secondo livello è il livello di trasporto e si occupa di connettere gli host e determinare come vogliono comunicare viene quindi incapsulato il messaggio del livello applicazione quindi viene impostato un indirizzo IP per contattare il server di destinazione e un numero di porta per identificare non evocamente il tipo di comunicazione tra i protocolli principali utilizzati a livello di trasporto abbiamo TCP e UDP la sostanziale differenza tra i due consiste nel fatto che UDP è molto leggero e veloce ma non garantisce alcuna garanzia che il messaggio venga consegnato al contrario TCP offre la garanzia che tutti i messaggi vengano consegnati comportando tuttavia costi aggiuntivi in termini di prestazioni TCP è necessario quando non sono messi errori nella comunicazione come nel caso dei trasferimenti dei dati diversamente è utile implementare UDP quando serve ottenere latenze ridotte al minimo come nel caso di telefonate VoIP o streaming multimediali il livello rete, che è il terzo livello, si occupa invece delle metodologie per identificare i vari dispositivi che partecipano a internet e determinare tramite appositi algoritmi i percorsi migliori per trasferire i messaggi il modo in cui vengono identificate le macchine all'interno di una rete è detto indirizzo IP attualmente il protocollo IP più utilizzato è chiamato IPv4 e per esprimere un indirizzo prevede un numero a 32 bit diviso in ottetti cioè diviso in quattro gruppi di numeri binari per convenzione tale indirizzo non è espresso in bit ma in notazione decimale puntata ovvero i quattro gruppi di numeri binari vengono convertiti in decimale un numero IP può essere privato o pubblico a seconda che sia visibile solo all'interno di una rete locale come la nostra rete wifi o ethernet o visibile all'intera rete esterna globale un esempio di indirizzo IP privato può essere 192.168.0.128 oppure 10.0.1.15 in base alla classe IP utilizzata da segnalare che con i 32 bit di IPv4 è possibile rappresentare non più di 4 miliardi di indirizzi differenti sembrano tanti ma in realtà sono molto pochi anche se si considera soltanto l'attuale estensione di internet questo problema è stato aggirato implementando il NAT ma parleremo di questo argomento in un'altra occasione IPv6 invece ha esteso i suoi indirizzi a 128 bit più che sufficienti per identificare pubblicamente qualunque dispositivo digitale per moltissimi anni ma per motivi economici non ha ancora sostituito e forse non sostituirà mai il predecessore IPv4 il quarto livello è il collegamento fisico e si occupa sostanzialmente di stabilire la comunicazione tra nodi adiacenti della rete per il corretto trasferimento dei dati il quinto e ultimo livello è il livello fisico che si occupa del trasferimento dei singoli bit ed è dipendente dal tipo di collegamento fisico utilizzato tra un dispositivo e successivo a seconda che sia il doppino di rami, la fibra ottica, un segnale wifi, eccetera 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 possiamo riassumere tutto quello che abbiamo spiegato finora tramite un'analogia ben più concreta immaginiamo di dover spedire una cartolina a un appartamento di un condominio di Roma la cartolina in questione nel mondo di internet potrebbe essere la richiesta di una pagina web oppure l'invio di un messaggio di whatsapp alla cartolina va affrancato un francobollo e l'indirizzo del destinatario se quindi l'indirizzo del condominio rappresenta l'indirizzo IP del server di destinazione il numero dell'appartamento rappresenta la porta di comunicazione attraverso la quale il server si aspetta di ricevere la nostra comunicazione inoltre abbiamo la possibilità di scegliere se vogliamo che la cartolina arrivi nel più breve tempo possibile come avviene con il protocollo di trasporto di IP oppure che arrivi in un tempo più lungo ma con la garanzia di consegna l'equivalente del protocollo TCP una volta compilata è il momento di consegnare la cartolina al postino a sua volta il postino la consegna al suo ufficio postale di riferimento l'ufficio postale passa la cartolina ad un altro ufficio postale il quale deve essere il più conveniente rappresentato sulla sua cartina speciale la procedura si ripete fino a quando un postino il postino non riesce a recapitare la cartolina al condominio di Roma in questa analogia l'ufficio postale svolge il compito di un router mentre il postino rappresenta il collegamento fisico tra i nodi della rete la cartina speciale invece rappresenta la tabella di instradamento ed è frutto di algoritmi specifici una volta ricevuta la cartolina il destinatario leggendo l'indirizzo dell'emittente potrà risponderci con questo abbiamo concluso la nostra panoramica sulla rete di calcolatori che noi chiamiamo internet come sempre vi ringrazio per avermi seguito un saluto a tutti da Valerio